Continuano le riunioni sindacali per denunciare le forti criticità dell'ospedale di Nocera Inferiore. Questa mattina è stata la volta dell'unione sindacale di base. Il coordinatore provinciale Vito Stornillo ha incontrato i suoi iscritti per denunciare il disagio dei lavoratori e i conseguenti problemi di assistenza agli ammalati. L'ASL Salerno intanto sta cercando di correre ai ripari. Sono in corso le selezioni per portare all'Umberto I dei medici mentre si è in attesa del via libera dell'azienda ospedaliera dei Colli Aminei per il trasferimento di 60 infermieri negli ospedali salernitani. 20 di loro andranno a lavorare nelle corsie dell'ospedale Nocerino. Sulla vicenda è tornato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino in una nota critica quanto il governo nazionale sia responsabile a suo dire della sanità campana e prende atto delle osservazioni che anche il presidente Vincenzo De Luca ha preso nei confronti dell'esecutivo Renzi. Il governatore De Luca, scrive Gambino, inizia ad adottare gli atti deliberativi di giunta regionale finalizzati a concedere il dovuto ed obbligato accreditamento al centro radioterapico d'Agosto e Marino di Nocera Inferiore come anche garantito il consiglio regionale il 16 febbraio scorso in risposta ad una mia specifica interrogazione consigliare in attesa di concretizzare il centro radioterapico nell'ospedale Andrea Tortore di Pagani che richiede tempi lunghissimi come ben sapeva il governatore De Luca anche il 18 gennaio 2016 allorché quantificò e codificò i tempi di realizzazione in meno di un anno. Contestualmente la giunta regionale continua Gambino autorizzi la casa di cura Malzoni di Agropoli a svolgere come sempre ha fatto per decenni le funzioni di pronto soccorso vero e concreto e ancora sempre ad Agropoli blocchi l'annunciata cessazione delle attività del radiosurgery nel settore radioterapico allo stesso modo conclude Gambino proceda senza indugi nell'attivare il pronto soccorso a Scafati